Finisce la quinta edizione di Medioera, un'edizione che ci ha assolutamente soddisfatto, un'edizione importante, forse quella della maturità, quella nella quale la città e non solo, il Festival è arrivato a un livello, pensiamo, buono, giusto, di interazione, di community, di network, con tante presenze, soprattutto internazionali. Speriamo che possa diventare un momento ormai fisso, insomma, quella che è l'innovazione e la nuova cultura digitale italiana e ci immaginiamo che questo possa diventarlo anche grazie soprattutto alla passione delle tante persone che anche in maniera volontaria si adoperano per far diventare sempre un grande Medioera.